Tanto vediamo lo scalzo Ah mamma mia No questa poi no Pazzesco Zoppica un po' È stato investito dalla cameraman Queste sono riprese non della regia internazionale Adesso invece è il primo degli umani La questione è come le democrazioni rispondono a questi scandali E cosa significa per la regione più ampia Penso che uno dei tuoi figli ha appena passato Sì, significa cambiare le salle in regione Penso che le relazioni con il nord possono cambiare? Sì, sarei sorpreso se le siano Scusate Per me Mi apologies Mi apologies What was this going to be for the region? Mi apologies North Sorry North Korea South Korea's policy choices on North Korea Have been severely limited Oh 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 Tambien va a pelear con Mexico Mexico va a pelear con Alemania Pero me da la impresion de que Alemania ya llegó A su limite Come me da la impresion de que Alemania Ale Mexicano OLE! 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 E questo è quello che la life vest è dovrebbe essere come. Que buona la c***a! La accogida che le dieron in mexico. Che rile. Che rile. Liss Taylor è stato giocato da Stalker Channing. E Marlon Brando è stato giocato da... Cedric the Entertainer. Se torn yakno che rile che rile schaffen da Theroni. Då c'è sempre teso. Tono de metà dilare del mère haulino sulla scolosi. Ha ho fatto ora... Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. I can do right you know everybody is disappointed that the work week is over the weekends over but I'll tell you know what the start of your work is actually going to be off a sticky situation at an airport in Tennessee after baggage was sprayed with raw sewage sprayed corn how'd I get on my bag okay too far oh my gosh here's the deal here's the deal just wait 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 this is just it we're on TV we're on TV there are people watching we're not in a private area FYI oh my gosh last week Twitter said guidelines were being updated due to confusion the company says any users who tweets content excuse me okay all right pulling it together now it's 5 37 good Thursday morning to you I feel really out of the loop right now I have tears coming down my you know our show Do bro. Mhm. We finally got it. We got it all. We got it all we got it all. We got it all. We got it all. And then we got it all. Joshi. And then I start the scene where we got back. So we have to go! Oh, I was like to switch it. Oh, you're like, I can't come back. Oh, you're like. There's only one. We're talking about college. Oh, and so you're like, yeah, when you get back. Oh, you're like, eh, okay, you're like... E poi ciò che faremo. E poi ciò che faremo. Questo è tutto quello che faremo, ma è bene. E questo è un programma che ciò che faremo. Sì, cerco. E poi ciò che farò di andare. Hoci ti da faremo? Sì, e adesso faremo. Siamo prima di Vavrinke e Col Schreiber. E poi mettiamo ora da Vavrinke. E poi mettiamo ora in un giusto che vi sia più ampi. Ciò che vi sia di trovare una stola. Grazie a tutti. 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 Don't stare directly at the cat. This is why I get nothing done. Take my eclipse glasses. You can't see it. I'm gonna go ahead and read this. Can you read this? I'll go ahead and read this. I'm going to go ahead and read this. I'm going to go ahead and read this. I'm going to go ahead and read this. I know it. You can't. One more time. One more time. All right. Every time this cat is playing peekaboo.